Cose da fare in un giorno sul lago di Garda parte 2 Ci siamo svegliati un po' tardi in realtà, però siamo andati comunque Appena arrivati, anche se la giornata era nuvolosa, ci siamo subito caduti il paesaggio perché per me personalmente il lago di Garda rimane bellissimo Siccome avevamo fame siamo andati a questo ristorante Foce che con soli 36 euro abbiamo mangiato questa pentolozza per due persone Per smaltire ci siamo fatti poi una passeggiata sul lungo lago Anche perché il rumore delle onde mi rilassava tantissimo onestamente Successivamente siamo andati a vedere la casa di D'Annunzio Anche detto il vittoriale degli italiani Che si trova a Gardone Riviera Il parcheggio è a pagamento ed è accessibile sia con carrozzine e passeggini Ci sono due tipologie di visite Una solo quella del parco e dei piccoli musei che sono dentro la visita del parco Un'altra modalità è quella di includere anche la visita della casa Gli animali sono ammessi solamente nella visita del giardino e dei piccoli musei Per la visita della casa invece non sono ammessi E soprattutto nella casa è vietato fare foto e video Come ultima tappa siamo andati alla Rocca di Manerva Dove abbiamo visto un bellissimo visuale e anche il tramonto Se vuoi segui per scoprire nuovi posti e nuove cose da fare Grazie a tutti